Sempre con Roberto Onistri, fotografo, qui siamo con una nota scrittrice padovana. Sì, la professoressa Arslan ha scritto dei libri meravigliosi che io ho già letto, quindi ci sono andato assolutamente preparato. Si tratta di una persona cordiale, gentile, abbiamo fatto le foto nel suo studio e ovviamente non poteva mancare un riferimento a quello che è il punto nodale della sua scrittura, ma anche della sua passione, della sua vita che è l'Armenia, quindi in qualche modo ha voluto ricordare questa cosa che per lei è così importante e intorno a cui ruotano i suoi libri che sono molto belli.